Perché, come è stato già detto, è una discussione molto importante, ma devo dire che, associandomi alla relazione della relatrice onorevole Maria Coscia, che è stata molto dettagliata anche nel raccontare lo sviluppo di questa discussione, ritengo che su questo provvedimento, sul provvedimento che riguarda la scuola, sia urgente e indispensabile ripristinare... Collega Scotto, questa è la discussione generale. Voi saprete quali sono gli emendamenti non appena sarà convocata una capigruppa, nel caso in cui la Presidente dovesse cambiare idea. Fino ad ora, la decisione della Presidente Boldrini è questa. Punto. Prego, collega d'Ottario. Grazie, Presidente. Dicevo che su questo provvedimento è indispensabile, è urgente ripristinare una corretta informazione sui contenuti. Magari per scoprire che ci sono diverse opinioni, ma non deve essere il frutto di allarme drammatico, come è stato fatto anche negli interventi precedenti. Magari dopo aver deciso di non partecipare alla riunione della Commissione, perché vorrei ricordarlo all'Aule, a chi ci sta ascoltando, che il Movimento 5 Stelle non ha partecipato alla riunione delle commissioni in cui sono stati discussi in quest'Aula gli emendamenti e nella quale, per esempio, il periodo democratico ha presentato 200 emendamenti. Non hanno partecipato. E chi ha partecipato ha potuto vedere come quella discussione è stata una discussione sincera, approfondita e importante. Ha modificato profondamente il provvedimento così come era entrato. Dicevo, possiamo scoprire che abbiamo differenti opinioni, ma non diciamo in giro cose che non sono vere. E soprattutto non leghiamo in questo momento difficile le bugie che si raccontano nel tentativo di creare un clima di sfiducia generale, perché rischiamo di non produrre nulla di buono. È stato detto che questo provvedimento non ha un'idea di scuola. Guardate, è assolutamente il contrario. Noi crediamo che l'idea di scuola contenuto in questo provvedimento sia quella della Costituzione. Noi diciamo anche però che per migliorare e per rispettare il dettato della Costituzione l'unico modo è quello di valutare i risultati del sistema, perché la scuola per tutti i cittadini, come dice la Costituzione, non può essere vanificata dagli abbandoni. Oggi è così. Siamo tra i Paesi a più alta dispersione scolastica e con tassi di abbandoni non degno di un Paese sviluppato come il nostro. Da qui bisogna partire. E allora io vi chiedo, siamo d'accordo o no che la risposta a questa domanda, la migliore risposta è la scuola dell'autonomia. Questa è la nostra risposta. Per rispondere alla logica degli abbandoni abbiamo bisogno di più scuola dell'autonomia. Ebbene, il tema è sparito dalla discussione. E con esso, per esempio, è sparito dalla discussione l'idea di un progetto didattico per ogni scuola, di un impegno intellettuale contrario alla ripetitiva omogeneità della vecchia scuola. È sparito dal dibattito tutta la necessità di innovazione. Luigi Berlinguer, pochi giorni fa, ha sentito il dovere di ricordare che strutturare la scuola dell'autonomia significa che, a fianco della frammentazione delle discipline, sono necessari momenti collegiali, di ricomposizione del sapere, di cooperazione tra docenti, al fianco di momenti di severo studio individuali, altri di confronto e cooperazione, imparare da solista e da orchestrale, diceva Luigi Berlinguer. Tutto questo è sparito dalla discussione. Si è parlato solo di assunzioni. Io devo dire, lo dico con sincerità, che se si potesse rialvolgere il nastro di questo periodo, forse sarebbe stato meglio che, a un dibattito sull'idea di scuola seguisse come conclusione se avere più insegnanti e non come è avvenuto che con più insegnanti, almeno questa è stata l'idea di partenza, con più insegnanti e meno precari si fa una scuola migliore. Ma il nastro non si può riavvolgere ed essere partiti dall'assunzione ha seppellito il resto del dibattito e soprattutto ha cancellato la centralità degli studenti. Guardate, in questi giorni, in queste settimane, in parallelo al nostro dibattito, si sta svolgendo un dibattito sulla scuola anche in Francia. È un dibattito che appunto non parla di assunzioni e anche lì stanno discutendo della riduzione dell'abbandono scolastico. Ed è vivace la discussione tra chi dice che, per esempio, magari i programmi sono troppo selettivi e quindi che per rendere la scuola più, tra virgolette, in grado di accogliere gli studenti bisogna fare i programmi meno duri. Da noi, degli studenti, e di che cosa serve loro non si è quasi parlato. Mentre nella legge sono contenuti indicazioni importanti, dalle competenze linguistiche, alla cultura musicale, alla cittadinanza, all'alternanza scuola-lavoro, si possono fare battute su questo argomento. Ma non si può scherzare. Si è parlato solo del ruolo del dirigente scolastico, chiamandolo ancora preside. Guardate che la differenza tra chiamare preside e dirigente scolastico non è solo nel termine. Il preside era il rappresentante del ministro nella scuola. Il dirigente è il responsabile dell'autonomia scolastico, cioè il responsabile dei risultati di quell'istituzione. Non ci siamo riusciti in questi anni, per esempio, a passare dal concetto di preside a dirigente scolastico, nonostante la legge lo prevedesse. Dobbiamo riuscirci oggi, se crediamo nel concetto che è la scuola dell'autonomia, è la scuola del territorio e non quella che funziona con le circolari. Credo che si debba trovare le condizioni per riaprire il dialogo con le organizzazioni sindacali, soprattutto con chi ci tiene alla scuola e non con quelli che vivono di ricorsi o che alimentano attese che fanno di sicuro solo guadagnare i loro avvocati. Noi stiamo mettendo in atto, anche nella scuola, un grande processo di semplificazione che ha bisogno di essere sostenuto e che riduca le complicazioni amministrative di cui oggi insegnanti e scuola sono vittime. Vorrei dedicare anche, se permettete, un minuto solo a quegli importanti commi, anche di questo si è parlato pochissimo, oppure come se fosse tutto scontato relativa al tema dell'edilizia scolastica. Commi che parlano finalmente di un piano nazionale dell'edilizia scolastica, dell'osservatorio. E non è vero che non ci sono soldi in più, ma io devo dire che si possono raccontare delle balle, ma dire che non ci sono soldi in più è clamoroso. Un miliardo in più quest'anno e tre miliardi in più negli anni successivi. E i soldi per la scuola ne stiamo discutendo, e potete leggere anche i giornali di oggi, se li avete letti, quando si parla di un piano delle infrastrutture nel Paese, una delle infrastrutture più importanti su cui si deve lavorare sono edifici sicuri e moderni. Quindi è importante pensare anche a scuole nuove, perché, lo dicono tutte le ricerche, la capacità di apprendimento è anche legata agli edifici e agli spazi nei quali si fa educazione e pedagogia. Abbiamo bisogno di scuole nuove. Non prendete in giro a quell'argomento che dice che faremo le scuole nuove anche dal punto di vista concettuale. Abbiamo bisogno di cambiare anche il modello di edificio, perché dietro a un modello di edificio c'è anche un modello di didattica e di pedagogia. L'approvazione della legge è chiaro, non chiuderà la discussione. Anzi, lo dico soprattutto a noi che fin qui siamo arrivati. Sarà l'avvio di una nuova e importante fase, la fase di attuazione e la fase di discussione intorno, per esempio, alle importanti deleghe. Questa legge, come tantissime altre leggi, dà delle possibilità che potrebbero anche non essere colte. Se così fosse, però, noi rischiamo di aumentare le differenze tra scuole invece di ridurle. E non parlo delle differenze del piano dell'offerta formativa. Parlo delle differenze sociali, che almeno nelle opportunità la scuola deve ancora e sempre di più aiutare a combattere. combattere le differenze sociali. Grazie. Grazie, collega Dottavio. Adesso il collega Nastri. Prego. Che però non è in mezzo. Eccolo. Eccolo. Grazie, Presidente. Intervengo in merito alla contestata riforma della scuola. Siamo alle fasi finali di un contorto percorso cominciato a settembre scorso con un'epocale consultazione via web. La riforma è stata da subito bocciata da tutte le categorie che vivono il mondo della scuola, appoggiata da sindacati, categorie di lavoratori, comitate e forze politiche di ogni provenienza. Un fronte comune senza precedenti. Uno sciopero unitario ha registrato l'adesione di oltre 600.000 docenti. Le manifestazioni di protesta hanno avuto scarso rilievo sulla stampa, ma in compenso ci sono stati milioni di post su Facebook. Migliaia di flash mob in tutta Italia. L'accensione di centinaia di migliaia di fiaccoli e lumini per celebrare la morte della scuola. Nel decreto legislativo sono nominati principi fondamentali e costituzionali. Uno per tutti è la libertà di insegnamento, articolo 33. Anziché assunzioni, sono previsti licenziamenti di massa.